Ciao a tutti da Vittorio, un video su Wesley Hutt, o Hutt come lo chiamano, mi sembrava avessero detto in Olanda che era Hutt, però ho letto tante 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 critiche al difensore irlandese, critiche anche ingiuste, io nel video di venerdì, quindi prima della partita, mi ero augurato che giocasse Vavro, perché doveva giocare Vavro? Perché Vavro è pronto, Vavro ha giocato due partite con la nazionale, Vavro ha detto che era in condizione, Teresa ha fatto 112 minuti la prima partita, ha giocato tutta l'altra, per cui era un giocatore pronto, Hutt l'ha detto anche in conferenza stampa, non ho ancora i 90 minuti sulle gambe, sono stato fermo a lungo, quando mi servo vorrà io sarò pronto, l'abbiamo visto sabato contro la Sampdoria, Hutt non era pronto, tant'è che è stato sostituito nel secondo tempo, però detto questo non è che la Lazio ha perso per Hutt, ha giocato male Hutt? No, secondo me ha fatto il suo, soprattutto considerando che parliamo di un giocatore che negli ultimi tre mesi non ha mai visto il campo, parliamo di un giocatore che dal punto di vista fisico non era pronto, sul primo gol sbagliano lui e Acerpi, però nessuno ha criticato Acerpi, Acerpi e Hutt si marcano a vicenda lasciando solo Quagliarella, quello è un errore dei due difensori, non solo di Hutt. Sugli altri gol l'olandese non ha colpe, quindi io tutte queste critiche a Hutt non le capisco, ripeto la Lazio non ha perso per colpa di Hutt, non ha perso neanche per colpa di Stracoscia, nonostante molti stiano commentando i miei video dicendo che la Lazio adesso si dura è Stracoscia. Stracoscia non sbaglia su nessuno dei tre gol, anzi sul terzo fa un mezzo miracolo, poi Patrick dorme e la Lazio prende gol, sul 3-0 fa un altro paio di buone parate, ripeto Stracoscia ha zero colpe sulla sconfitta della Lazio, anzi se vogliamo dire che Stracoscia ha colpa, beh allora prima c'ha colpa Parolo, Patrick, Acerbi, Hutt, Leiva eccetera eccetera, direi che proprio Stracoscia è l'ultimo dei problemi della Lazio. L'altra cosa che volevo sottolineare è, sappiamo tutti che Hutt non ha i 90 minuti sulle gambe, è uscito, è entrato Vavro, ecco adesso mettetevi nei panni di Denis Vavro, l'anno scorso ho comprato 11 milioni, l'acquisto difensore più caro della gestione Lotito, arriva l'anno dopo Hutt in prestito e nonostante sia arrivato a Roma, si stia allenando a Roma da 4-5 giorni, ti parte il titolare davanti, quindi già sai che Inzaghi ti ha già messo da parte, perché preferisce uno non pronto che si allena con la squadra da 4 giorni che te che sei là da un anno, che sei ritornato da nazionale facendo anche bene e nonostante questo non ti fa giocare in piena emergenza difensiva. Poi però nel secondo tempo ti butta dentro, ecco. Vavro, con che determinazione, con che mentalità è entrato in campo, sapendo che uno è praticamente fuori rosa, perché appena torna Rado probabilmente esce lui. Due, l'allenatore ti ha preferito Hutt che non era in condizione, tu entri in campo e devi fare la partita. Beh, secondo me questo è un errore psicologico da parte di Simone Inzaghi. Io avrei fatto giocare Denis Vavro titolare perché lui sarà da un anno, si è allenato, eccetera, eccetera, e poi nel secondo tempo magari fa entrare Hutt. Invece buttare così dentro Vavro, distrutto moralmente, perché sai che sei fuori rosa, che piuttosto che far giocare te prendo uno dalla strada e lo butto dentro e poi però lo butti dentro nella partita contro Sampdoria. Secondo me non è stata una scelta intelligente da Simone Inzaghi, perché il giocatore mentalmente distrutto, no? Sa che veramente l'allenatore non lo valuta per niente. Vavro non ha fatto una grande partita, ma cavolo, mettetevi nei panni di Vavro dopo tutte le cose che vi ho detto. Non so, qualcuno avrebbe fatto quasi autogol, no? Vavro non ha giocato malissimo, però certo in queste condizioni secondo me abbiamo perso un giocatore, perché Vavro sa che non ha la fiducia dell'allenatore, Vavro sa che piuttosto gioca Hutt al suo posto e quindi secondo me non è stata una mossa dal punto di vista psicologico molto intelligente di Simone Inzaghi. E voi che ne dite? Scrivetevi al commento qua sotto. Ciao, alla prossima! Grazie a tutti!